Ciao a tutti! Oggi parleremo della moltiplicazione per 99 di un numero a tre cifre. Senza calcolatrice e molto semplicemente. La prima cosa che vediamo è moltiplicare 354 per 99. Molto semplice! Ci sono alcuni passaggetti da fare. Il primo, prendiamo la prima cifra che è il 3 e gli aggiungiamo 1. Quindi 3 più 1 naturalmente fa 4. Poi prendiamo l'intero numero da moltiplicare, cioè 354, e gli sottraiamo questo 4. Quindi 354 meno 4 è 350. Poi, terzo passaggio, la seconda parte, le ultime due cifre della cifra da moltiplicare, le sottraiamo da 100. Quindi 100 meno 54, 46. Quarto e ultimo passaggio, combiniamo il 350 con il 46. E il risultato della nostra moltiplicazione è 35.046. Provare per credere! Adesso facciamone un'altra. 677 per 99. Già sento un coro di persone che mi dice cosa fare. Prima cosa, sempre prima cifra, 6. Gli aggiungiamo 1 e diventa 7. Poi che altro facciamo? Le intere tre cifre da moltiplicare. 677 meno 7 uguale 670. Poi 100 meno 77 uguale 23. Il nostro risultato sarà 67023. Carino, vero? Allora, se il video vi è piaciuto mettete like ed iscrivetevi al canale. Non costa nulla! Ciao ciao e a un prossimo video! Ciao ciao!